Nel 1987, passeggiando con una mia cara amica per le stradine di Piediluco, ritrovammo per terra, rinvenimmo per terra, una banconota da 50.000 lire, senza portafoglio, senza altre indicazioni che potessero dirci chi l'avesse smarrita e quindi io la raccolsi e me la mesi in tasca. Non so se siete mai stati a Piediluco, ma è uno dei luoghi più belli del Ternano, perché c'è un lago molto bello, dove peraltro si allenano le nazionali di canottaggio e quindi ci sono sempre tanti atleti, sia uomini che donne, ragazze e ragazzi, che appunto frequentano queste vie e quindi la arricchiscono anche di allegria la cittadina, ma anche d'inverno è una cittadina romantica, dove ci sono dei ristorantini in cui è piacevole passare una serata. E insomma, io raccolsi queste 50.000 lire e naturalmente mi proposi di fare a metà con la mia amica, ma lei rifiutò. Cosicché mi risolsi a invitarla a cena e poi, per completare l'opera, invece del solito mazzo di fiori, le andai a comprare qualche giorno dopo questo disco di Elena Biolcati, che a lei piaceva molto e che si intitola ballerina. Io di questo oggi vorrei parlare, di questo disco, di un artista che ha conosciuto alcune stagioni importanti, ma poi si è un po' ritirata dalle scene, ma che ha fatto anche dischi che mi sono piaciuti davvero tanto. Prima di tutto questo io vi rinnovo, l'invito a iscrivervi al mio canale Francesco Franceschini, nel quale parlo, in questa playlist specifica, dischi, giuradischi, mangiadischi, di albumi importanti, della musica d'autore italiana o anche semplicemente della musica pop e leggera, che hanno fatto la storia del nostro paese. Allora, ballerina Elena Biolcati, 1987, vi mostro di nuovo la copertina, molto bella, devo dire, e le canzoni sono scritte da Dodi Battaglia, da Stefano Dorazio, da Marco Tansini, arrangiate da Fio Zanotti, ma parliamo di grandi professionalità. Ma soprattutto vorrei raccontarvi un po' l'anima di questo album, per recuperare anche il piacere di quelle canzoni un po' perdute nel tempo, di quelle melodie forse semplici, ma anche capaci di alleggerirci una giornata un po' pesa. Titolo che si rifà naturalmente all'arte della danza, ma anche alla danza come metafora della vita. Siamo un po' tutti ballerini e ballerine, danziamo sulle punte quando ne siamo capaci, ma balliamo sotto la pioggia, come recitava qualcuno in altre canzoni, o semplicemente ci muoviamo per non morire. E il ballo ancestralmente è uno dei motivi più importanti e degli stratagemmi anche più efficaci per combattere la noia che poi porta anche alla morte, almeno quella della curiosità. Quindi ballerina proprio nel senso di ragazza, di donna, che alla fine degli anni Ottanta si muove e si confronta con l'uomo, con il maschio, affermando anche la sua personalità e i suoi diritti. Ed è un tema certamente molto forte, ancora oggi siamo nel terzo millennio, ormai da un bel po', ma pare che le disparità non siano ancora state del tutto sanate. Poi però ci sono anche delle altre canzoni belle, per esempio c'è la storia di una specie di così amore molto effimero, si intitola Com si com sa, con questo termine inglese, l'amore di una notte, l'amore di un breve periodo, di poche ore, che può essere però intenso come quello a lungo termine. C'è una cover molto bella e rispettosa di pensieri e parole, la meravigliosa canzone di Lucio Battisti e di Mogol, devo dire è cantata molto bene, arrangiata in maniera convincente e quindi credo assolutamente priva di controindicazioni anche per i battistiani doc. La cosa insolita, non mi risulta che Elena Biolcati abbia mai fatto cover di questo tipo, soprattutto così impegnative come questa, e poi però per finire vi suggerisco, e vi metto anche in descrizione così l'ascoltate con calma, una canzone che è scritta per quanto riguarda il testo da Stefano Dorazio e per la musica da Dodi Battaglia che si intitola Eclissi di cuore. Ed è una storia che ricorda un film, è una narrazione che copre diversi anni della vita di un uomo ormai invecchiato, provato dall'esistenza, con le rughe che in faccia sono diventati dei solchi che tradiscono anche la sua amarezza, ma nello stesso tempo raccontano la sua fierezza. Il testo dice fa male vedere come il tempo ferisce, ruba i contorni persino alle rocce. Ecco, quest'uomo è una roccia, ha vissuto tante vite, ha viaggiato per il mondo, forse è stato marinaio, la canzone non lo specifica ma non è importante, forse è stato avviatore, forse è stato un capitano di vascello, chi lo sa, forse è stato un avventuriero ma certamente ha vissuto e adesso tutto quello che ha vissuto però gli si ritorce contro in qualche modo viene a presentargli il conto. Quindi è una canzone che racconta sì la bellezza del movimento, un po' rifacendosi al tema della ballerina, del ballo, del titolo, ma racconta anche come a volte i rimpianti, i dispiaceri e le amarezze alla fine dell'esistenza da vecchi possano essere maggiori dei piaceri che si sono provati. Eclissi di cuore è davvero un gran pezzo, anche molto sostenuto ritmicamente grazie alla chitarra di do di battaglia e al testo di Stefano Dorazio che forse è il miglior testo che lui abbia mai scritto al di fuori dei po'. Io vi consiglio, l'ascolto, il recupero di questo bel disco di Elena Biolcati dotata anche di una voce molto melodica, molto riconoscibile ed è un peccato che a un certo punto della sua carriera abbia deciso di dire basta. Vi mostro di nuovo il disco Ballerina che piacque molto a quella mia amica che purtroppo non c'è più. Io vi ringrazio dell'attenzione, iscrivetevi a questo canale, vi lascio sotto oltre al link dove potete ascoltare Eclissi di cuore, anche il mio blog dove potete leggere gratuitamente tutte le sciocchezze che ho scritto in questi ultimi 11 anni di vita.